In questo video voglio parlarti di alcuni sintomi molto particolari. Se hai questi sintomi potresti essere una persona delirante. E c'è una cura, e la cura è una meditazione. Quindi alla fine di questo video potrai anche decidere di voler fare questa meditazione se troverai che è interessante l'argomento che ti propongo. E allora ti invito ad andare nel link che trovi qua sotto per poi vedere anche la parte pratica. Quello che vedrai adesso invece è la registrazione di tutta la parte teorica che ho esposto durante la meditazione del 7 aprile. Uno degli incontri che facciamo abbastanza raramente purtroppo, che si chiama Insieme della Luce. Una serie di meditazioni collettive che abbiamo fatto su Zoom. Un sacco di persone, un sacco di bella energia, le ho registrate tutte. Quindi segui il link qua sotto per andare a scoprire anche questa meditazione che è inclusa nel pacchetto in cui sono tutte insieme. Buona visione! Stasera vi faccio vedere un po' di slide che riassumono questi 12 sintomi del delirium transformance che secondo me è qualcosa di cui tutti noi siamo affetti. Intendo tutte le persone che sono qui a seguire questa meditazione collettiva. perché sennò non sareste qua. Probabilmente non vi interesserebbero queste cose e probabilmente stareste impegnati a guardare qualcos'altro. Magari delle notizie più aggiornate sulla situazione attuale che stiamo vivendo. Quindi sono contento perché in realtà è un periodo difficile un po' per tutti noi questo. anche perché, non so se avete notato, ma la morsa si stringe. Si stringe e anche in questi giorni dopo la Pasqua io ho letto delle notizie che già circolavano un po' nell'aria ma si sono cominciate a confermare che mi hanno messo per qualche ora in uno stato di, non saprei definirlo, però un attimo di sconforto, mi sto a un po' di paura, preoccupazione, rabbia per quello che vedevo, che si sta cominciando a delineare, quello che ho visto nelle notizie. E chiaramente poi una notizia chiama l'altra, sono un po' come le ciliegie, quindi ne trovi una, c'è un link che ti porta su un'altra che parla di qualcosa che è connesso a quello, no? E quindi alla fine cominci a renderti conto che sei bombardato da tutte le direzioni, da notizie che ti possono veramente buttare giù. Tante volte mi sono anche chiesto, quando leggo le notizie, se sia il caso di condividerle, perché a me effettivamente viene di condividere queste notizie, perché dico wow ma guardate cosa sta succedendo, dobbiamo fare qualcosa, lo spirito è questo, no? Da una parte. Però poi mi rendo conto, hanno ragione anche quei miei amici che mi dicono sì, però poi quando noi condividiamo queste notizie si crea anche ansia nelle persone, che magari sono un attimino più, sono già molto preoccupate, vedono queste notizie, si preoccupano ancora di più. Però alla fine tante volte non resisto, no? Se dovessi pubblicare tutto quello che vedo, o comunque che su cui mi documento, a parte le cose della situazione attuale, io pubblicherei un sacco di cose anche sulle cose che al di là di questo periodo storico particolare mi interessano, mi affascinano in tutti i campi, nel campo dello yoga, della musica, eccetera. Quindi forse da una parte dovrei decidere di postare più cose legate a questo. Però è inevitabile, adesso voglio dire una cosa molto importante, se siete qui è perché siete persone che fanno yoga, meditazione, in qualche modo siete persone che vogliono partecipare a degli eventi come questo dove ci ritroviamo insieme, che è la parola più importante, insieme, a coltivare qualcosa in cui crediamo. Cioè quantomeno crediamo che la meditazione sia uno strumento per stare meglio e migliorarci come persone, ma poi probabilmente crediamo anche che insieme appunto possiamo fare qualcosa per, non dico cambiare la situazione in modo così immediato e fulmineo, ma sicuramente fare qualcosa per passare attraverso questo periodo e uscirne migliorati, perché secondo me questa cosa si può fare nella propria individualità, ma insieme viene meglio. Quindi per esempio io sono qui a condividere qualcosa, ma il fatto di vedere così tante persone connesse mi fa stare bene e mi aiuta e quindi mi fa sentire ok, allora è giusto che io continui su questa strada a cercare di coltivare queste cose. Qualche giorno fa ero con degli amici in un posto molto bello nella natura e stavamo parlando anche di questo, cioè del fatto che a volte ti chiedi ma in tutto questo delirio che sta succedendo non sarò io quello svalvolato che effettivamente vede complotti o vede cose che poi in realtà non ci sono che magari si fa un'idea alternativa sulla situazione quando in realtà ha quello che dicono in televisione esattamente quello che sta succedendo con tutte le sue sfumature. Abbiamo parlato un po' di questo per arrivare velocemente alla conclusione che probabilmente no, non è così, non siamo poi così fuori di testa perché forse siamo anche persone che meditando si fanno delle domande perché sono abituate a guardarsi dentro e a mettere in discussione prima di tutto se stessi e quindi viene naturale poi mettere in discussione quello che vediamo fuori, le notizie che ci arrivano, le informazioni che raccogliamo quando facciamo le nostre ricerche, quello che gli altri ci dicono di noi stessi, della nostra vita, di quello che gli arriva da noi. Noi che facciamo meditazione e non voglio con questo dire noi come persone superiore agli altri ma forse persone che si dedicano a qualcosa a cui non tutti si dedicano e dedicarsi a questa cosa che è l'introspezione e la meditazione fa sì che a un certo punto tu sei un po' diverso dagli altri, magari anche un po' fuori di testa agli occhi degli altri perché ti fai certe domande e metti in discussione certe cose. Quindi diciamo che siamo qui e probabilmente siamo uniti da questo e siamo anche persone che facendo questo tipo di pratiche a un certo punto sentono anche il bisogno e lo vedremo tra poco nelle slide che vi farò vedere cercherò di essere breve stasera però insomma siamo insieme anche se passiamo tanto tempo è anche un bel tempo di qualità penso, io sono troppo contento penso, spero di rendere contenti anche voi con quello che faremo. Di base vedremo che c'è come un sintomo che ci accomuna il fatto che a un certo punto tu cerchi la verità e vuoi fare in modo che questa verità venga fuori quindi magari buttare una notizia sui social perché tu vedi una cosa è come buttare un sassolino nell'acqua per smuovere quella schiuma che si è formata sulla superficie e riuscire di nuovo a vedere il fondo e capire cosa c'è veramente sotto le acque quindi penso che molti di noi, io vedo tanti colleghi insegnanti di yoga che sono molto attivi nel dire ma guarda questa cosa non mi torna ma guarda questi numeri non sembrano reali ma guarda ci sono delle cure che possono prevenire l'affollamento degli ospedali bla 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 ok ora non voglio entrare troppo nel vivo di questo argomento però avete capito cosa intendo a un certo punto certe persone cominciano a dire quello che pensano ok perché tante altre persone magari la pensano in un certo modo ma non lo dicono per non esporsi e secondo me ci vuole un equilibrio sicuramente esporsi ma non troppo e quindi esporsi troppo potrebbe essere mettersi inutilmente in una posizione molto scomoda non esporsi affatto secondo me vuol dire non partecipare allo sforzo che collettivamente molti di noi stanno già facendo per cercare di cambiare le cose ok e non so come noi io ho visto per esempio tante persone andare a fare una manifestazione recentemente qui in italia in questi giorni e tante ne vedo perché mi documento in europa negli altri stati dell'europa che vanno attivamente a fare comunque sentire la loro voce io non mi sento una persona chiamata a questo ma mi sento che ancora sto cercando il modo di partecipare attivamente a quello che ritengo non una guerra contro qualcuno ma una rivoluzione che è un normale movimento verso l'evoluzione dell'intera società umana quindi sono parte integrante della società umana e voglio partecipare a questo cambiamento in modo attivo e non passivo lo sento da dentro e voglio fare la mia parte e quindi da una parte a volte sono propenso a condividere delle notizie altre volte sono propenso a condividere una meditazione altre volte sono compenso propenso a invitare qualcuno per una chiacchierata ispirante e poi non lo so cercherò di trovare tanti altri modi per ora sono anche cercando un posto in campagna fuori dalla città dove magari andare a vivere con alcune persone però al di là del posto che si trova anche poi devo trovare anche i soldi e le persone che vogliono in qualche modo investire in un progetto del genere perché anche lì sarà un po una questione di unire le forze bene quindi veniamo un po a quello che è la sintesi del discorso vogliamo fare qualcosa bene stasera vorrei provare a condividere con voi una sensazione che io sto sentendo dentro di me e non credo di essere più speciale di nessun altro credo solamente che i miei sforzi per cercare di capire questa situazione di affrontarla nel modo migliore mi stiano facendo vibrare una frequenza che mi connette con qualcosa che mi fa sentire dentro in qualche modo allineato con un certo modo di vedere la situazione pensarla e viverla ok quindi per questo non so una certa sincronicità ho visto questo post di questa mia insegnante che mi ha ricordato questo libro di questo autore che noi studiavamo nella scuola di counseling ha detto wow ecco che le cose tatata volevo condividere qualcosa l'idea è questa ecco lì che arriva questo bellissimo estratto del libro di quest'uomo di cui adesso vi parlerò e mi aiuta a spiegare meglio questa situazione in cui mi sento trascinato e sono convinto che molti di voi si sentono trascinati nella stessa situazione allora mi sono chiesto visto che comincia arrivare la percezione di questo stato esistenziale che probabilmente tanti di noi stanno cominciando a vivere in che modo io lo posso far esprimere ancora meglio dentro di me nella mia vita e ancorarmici in modo più efficace per passare attraverso questo periodo e fare la mia parte ok questo è lo spirito della meditazione che vorrei proporvi stasera non so se l'ho spiegato in un modo troppo complicato insomma vado avanti con le slide che mi aiutano allora quindi come vi ho detto vi elenco 12 sintomi di quello che buffamente o scherzosamente io ho definito il delirium transformance cioè un delirio è uno stato in cui sei fuori di testa e tutti ti vedono come se una persona fuori di testa perché tu ti atteggi ti comporti e ti senti in un modo che è diverso da quello in cui si sentono gli altri avete presente mio padre che era psichiatra da piccolo mi disse abbastanza presto questa frase in un mondo di pazzi il sano è il pazzo quindi come ci sentiamo noi che stiamo cercando di vedere questa situazione in un modo diverso ma comunque diciamocelo non è io non sto cercando di vedere questa situazione dell'ultimo anno in un modo diverso tutta la vita che in qualche modo da quando per esempio ho deciso divento vegetariano comincio a fare yoga vado in india quando ho cominciato queste cose all'inizio degli anni 90 ero veramente il pazzo il pazzo che si era sbarellato con una canna di troppo agli occhi dei miei amici dei miei genitori e da lì me la sono portata dietro sono 30 anni che mi sento così quindi non c'è niente di nuovo però la morsa si stringe quindi adesso in questo momento sei ancora più anticonformista se tu non hai per esempio paura la stessa paura che hanno tutti se non hai quel senso di responsabilità di cui si parla che ti dovrebbe spingere a fare certe scelte che magari tu non senti naturale e non vuoi fare quindi ti trovi ad essere un sano in un mondo di pazzi o un pazzo in un mondo di sani io su questo mi sono già tolto il dubbio io credo di essere sano in un mondo di pazzi e non lo dico con presunzione lo dico proprio con la sensazione che ho anche per cose che vedo succedere intorno a me tutti i giorni quando esco per andare a lavorare e mi muovo per strada e guardo il mondo quindi che cosa condivido con voi stasera un estratto di un libro di Carl Rogers che era uno psicologo psicanalista quindi psicoterapeuta lui veniva dal mondo dell'analisi più classica che si faceva proprio vedete l'epoca di quest'uomo è dal 1902 quindi ha seguito sicuramente tutto quel filone creato da Freud portato avanti poi nel tempo e era un analista però poi cambiò il suo modo di lavorare sapete l'analista mio padre era psicanalista anche mio padre mi disse io alla fine della mia carriera usavo il metodo rogersiano perché avevo capito che funzionava meglio cosa ha fatto rogers da quello capito io praticamente lui da analista aveva una persona su un lettino stava alle sue spalle prendeva appunti e interpretava quello che la persona gli raccontava i sogni il vissuto eccetera poi a un certo punto un bel giorno in qualche modo me lo immagino così avrà detto ma io che cavolo ne so di quello che veramente sta succedendo a questa persona quindi tolse la questione del lettino e messe una poltrona davanti all'altra disse ora ci parliamo in faccia e gli faccio delle domande a questa persona perché voglio provare a capire a mettermi nei panni di questa persona e da lì diede via a tutto un altro approccio nella psicanalisi e sviluppò quello che si chiama l'approccio centrato sulla persona quindi è la persona che sa qual è il problema non l'analista allora l'analista o con questo caso lo psicologo cerca di capire qual è il problema attraverso la spiegazione della persona non attraverso la sua interpretazione di quella spiegazione e quindi aiuta la persona non solo a spiegare bene il problema e quindi capirlo nello sforzo di spiegarlo ma anche a vedere automaticamente per intuizione grazie a quello sforzo le possibili soluzioni al problema quindi diventa un facilitatore dell'introspezione della persona fantastico perché per persone che fanno meditazione questo è davvero un approccio meraviglioso è quello che fanno i maestri spirituali io ho avuto diverse guide da grandi insegnanti amici molto esperti monaci che erano comunque i miei insegnanti maestri spirituali ho cercato tanto e ho avuto la fortuna ma mi sono anche sbattuto per andare a raggiungere queste persone e imparare da loro e cercherò di continuare a farlo nella vita perché non c'è niente di meglio che stare in contatto con una persona per imparare e quelli che mi hanno fatto aprire di più erano quelli che mi sapevano fare la domanda giusta alla quale io non potevo rispondere così ma rimanevo un attimo in blocco per poi andare dentro a cercare una risposta fare uno sforzo riorganizzare le cose che avevo dentro e in quello sforzo alla fine capivo quindi quella domanda era un insegnamento alla fine per riflesso quindi carlo rogers cambiò il modo di fare psicologia molti l'hanno seguito il mondo del counseling si fonda sui suoi insegnamenti sul suo approccio però lui scrisse tanti libri molto belli era un uomo veramente meraviglioso secondo me ora non l'ho conosciuto di persona ma leggere rogers è leggere una persona che si fa delle domande che osserva il mondo con un cuore buono aperto umile con una grande intelligenza quindi vedete se riuscite a trovare qualche libro di carl rogers e leggervelo ha fatto libri sulle relazioni di coppia su un modo di essere come questo libro qui appunto del 1980 lui in questo libro per esempio parla delle qualità della persona di domani considerante che l'ha scritto nel 1980 però è anche un uomo che ha attraversato un periodo storico si è nato nel 1902 si è visto la prima guerra mondiale la seconda guerra mondiale la terza guerra mondiale la stiamo vedendo noi lui non l'ha vista ma l'aveva in qualche modo già anticipata perché ora come leggeremo il mondo di domani che era per lui è il nostro mondo di oggi e lui ha individuato le qualità di queste persone e gli aveva intuito che il mondo sarebbe diventato un delirio questo l'ho detto io lui aveva già intuito che sarebbe diventato un delirio e oggi lo vediamo che è un delirio lo vediamo dalle incongruenze dalle cose a cui siamo sottoposti mettiamo anche che la situazione sanitaria che è magari un'emergenza reale in tanti momenti posti e situazioni è gestita in un modo assurdo l'uomo sta delirando davanti a questo ok e quindi capì che le persone con queste caratteristiche che adesso andiamo a vedere una per una si sarebbero distinte dalle altre in questo momento storico qui adesso io vi faccio un elenco vi invito magari poi a leggervi questo libro vi faccio questo elenco voi potete farvi delle domande rispetto a queste caratteristiche ce l'ho questa caratteristica la sto sviluppando questa caratteristica mi manca questa caratteristica può essere molto interessante dal punto di vista introspettivo e può aiutarci a farci un'idea su noi stessi in questo momento particolare cioè dove siamo e se abbiamo però tutti questi sintomi vuol dire che siamo già nel pieno delirio positivo stiamo delirando bene no quello che dicevo quando ho presentato questo incontro ora noi stiamo delirando bene se abbiamo tutti questi sintomi allora il primo è l'apertura le persone che hanno apertura tendenza all'apertura queste persone ora qui quello che leggerete sono proprio le parole di rogers estratte dal libro quindi le ho trascrete così come sono non ho voluto interpretarle queste persone hanno un'apertura al mondo sia interiore che esteriore e sono aperte all'esperienza a nuovi modi di vedere le cose ai concetti e alle idee nuove quindi queste persone sono aperte di mente ok e quindi si rendono anche disponibili a possibilità che gli altri non vedono nuove idee nuovi concetti ok magari il mondo vede l'intelligenza artificiale e certe persone vedono il pericolo da una parte dell'intelligenza artificiale l'uso positivo dell'intelligenza artificiale quindi adesso vedremo rispetto alla tecnologia perché si parla anche di questo però riescono a vedere prospettive che gli altri non vedono ma sono aperti comunque di mente quindi io penso che questo voglia dire anche che sono pronti a cambiare idea opinione sulle cose nel momento in cui viene presentato un nuovo modo migliore magari di pensare di vedere la situazione circostante per affrontarla l'altro sintomo è il desiderio di autenticità quindi trovo che queste persone valorizzino la comunicazione come un modo di dire le cose così come sono e rifiutano l'ipocrisia l'inganno i discorsi doppi della nostra cultura che è molto tendente a dire a però anche b c però anche di lo vediamo anche solo nel modo in cui siano formulate le leggi del nostro per esempio in italia sono franche per esempio nelle loro relazioni sessuali anziché condurre una vita segreta e ambigua carlo gest si era occupato anche dei rapporti di coppia e quindi di come le persone gestivano tutto nel rapporto di coppia e quindi prendeva come esempio queste persone che sono franche anche in quelle cose che si tenderebbe a nascondere magari quindi sono persone che vogliono la verità e quindi desiderano l'autenticità sicuramente negli altri nel mondo ma quindi cercano di diventare autentici quindi la domanda è sto facendo uno sforzo per essere sempre più me stesso sempre più autentico il che significa anche questa cosa che diceva il mio maestro spirituale che poi adesso vedo che sono in molti a dirla dire quello che si pensa e fare quello che si dice quindi c'è allineamento tra il pensiero la parola e l'azione questo rende la persona semplice autentica e vera ok quindi se sto cercando in tutte le sfumature della mia vita di adottare quello perché potrei riuscire nel 90 per cento delle cose che faccio ma mi manca un'area della vita e rogers ha preso proprio quella della sessualità che è una di quelle più tabù più nascoste più particolari proprio come esempio del fatto che magari in certe aree della nostra vita e solo noi possiamo sapere quali potremmo non essere noi stessi al cento per cento e dire una cosa ma pensarne un'altra o pensare una cosa e farne un'altra eccetera eccetera poi queste persone hanno anche scetticismo verso la scienza la tecnologia questa è una cosa interessante perché in questo periodo effettivamente scienza e tecnologia stanno cavalcando un'onda molto particolare esse hanno una profonda diffidenza nei riguardi della nostra scienza e tecnologia attuale che è usata per conquistare il mondo la natura e controllare i popoli del mondo queste ragazze cose scritte negli anni 80 nel 1980 ok fine anni 70 quindi d'altra parte quando la scienza come ad esempio il biofeedback è usata per intensificare l'autoconsapevolezza e il controllo della persona ad opera della persona stessa esse ne sono convinte sostenitrici questa è una cosa in cui io mi identifico al cento per cento perché sono un nerd sono un cavolo di nerd mi piace la tecnologia trovo che sia utile grazie alla tecnologia noi siamo stasera qui a fare qualcosa di bello insieme ma io con la tecnologia posso anche fare esperienze con la realtà virtuale che mi permettono di crescere con una persona come persona se ne faccio buon uso se ne faccio cattivo uso questa roba può diventare sicuramente qualcosa da cui divento dipendente ma può essere usata da chi me la mette a disposizione per manipolarmi inutile dire altre cose su questo sappiamo già tutto quindi se nella scienza che sta galoppando così velocemente sta diventando un dogma l'hanno detto gli scienziati è così a quel punto se ti senti che non ti torna questa scienza questa tecnologia sta diventando troppa ed è troppo assoluta allora hai questo sintomo quindi sei malato grave poi c'è un desiderio di totalità in queste persone queste persone non amano vivere in un mondo a compartimenti stagni corpo e mente salute e malattia intelletto e sentimento scienza e senso comune individuo e gruppo sensato e insensato lavoro e gioco tutte cose messe in opposto guardate per esempio lavoro e gioco io per esempio con quimici identifico veramente cioè vorrei che la vita fosse completa quindi io sono al lavoro e gioco cioè gioco con i miei giocattoli e i miei collaboratori e ci divertiamo e abbiamo un clima allegro e io sono immensamente grato di essere riuscito a realizzare questo nella vita non mi piaceva l'idea il lavoro una cosa il gioco un'altra è possibile integrare queste cose come intelletto e sentimento io posso essere intelligente e anche cavalcare l'onda dei sentimenti non separare due cose o essere una persona razionale o essere una persona emotiva può essere razionalmente emotivo eccetera eccetera ne abbiamo parlato molto recentemente con alcuni amici nel periodo della pasqua di questo e se lottano invece per una totalità della vita dove pensieri sentimenti energia guarigione sono tutti integrati nell'esperienza quindi una vita piena rogers era uno di quelli proprio che hanno coniato il termine vita piena forse proprio l'ha coniato lui questo modo di definire la vita sana di una persona che ha fatto un lavoro per essere completo desiderio di intimità un altro sintomo e se cercano nuove forme di vicinanza di intimità di finalità condivise cercano nuove forme di comunicazione della comunità sul piano verbale non verbale intellettuale e sentimentale provate a pensare ad esempio al fatto che alcuni di noi amano per esempio fare a un certo punto l'acroyoga è una forma di comunicazione di contatto di intimità la contact the dance a un certo punto ha avuto un boom a partire dagli anni 70 gli ipi che è un certo punto volevano proprio vivere in comunità stare insieme cantare insieme ballare insieme fare cucina insieme coltivare l'orto insieme io lo penso in questo senso proprio un'intimità che comincia a dividere a diventare condividere la vita nella nelle sue varie parti non sto in cucina da solo in ufficio da solo comincia il co working per esempio trovarsi in gruppi non lo so trovate voi dentro di voi come risuona questa cosa a me risuona tantissimo il fatto di veramente avere voglia di unirmi sempre di più alle persone con mezzi verbali non verbali corpore non corporei quanta voglia a un certo punto esplosa di abbracci amma questa donna che abbraccia tutti e va in giro forse è arrivata proprio nel momento in cui gli uomini sono pronti a rendersi conto di avere questo bisogno di maggiore intimità e semplicità in questa intimità poi persone in trasformazione esse sono acutamente consapevoli che l'unica certezza della vita è il cambiamento che esse sono sempre in sviluppo sempre in trasformazione è così effettivamente lo vediamo che noi che siamo qui a fare queste cose l'abbiamo già capito c'è un continuo cambiamento che si mette in moto quando lavoriamo su noi stessi ma la vita intorno a me cambia continuamente pensate cosa è cambiato in un solo anno della nostra vita quindi accolgono di buon grado questo rischioso modo di essere e sono vitalmente vive nel modo in cui affrontano il cambiamento quindi questo è molto interessante perché ci parla proprio del modo di porci nel cambiamento no in che modo io mi pongo in questo cambiamento tutto sta cambiando intorno a me o ho paura mi aggrappo a quelle che erano le sicurezze di prima oppure le lascio andare e a un certo punto mi rendo disponibile per trovare me stesso in una situazione completamente diversa dove saprò anche ricostruire i miei nuovi riferimenti i miei nuovi punti fermi che mi renderanno sicuro nella vita la dedizione un'altra caratteristica queste persone sono dedite desiderose di essere di aiuto agli altri quando il bisogno è reale è una dedizione gentile sottile non moralista e non giudicante ecco questo è molto importante non moralista non è che arrivo e ti dico cosa dovresti fare o stai male ci vengo io ti vengo aiutare io anzi lui dice esse sono diffidenti verso i soccorritori di professione che non vuol dire le persone che lavorano negli ospedali per esempio perché rogers è sicuramente con questo intendeva quelle persone che diventano i salvatori che sono sempre salvatori sono sempre loro a risolvere problemi agli altri perché è un modo di vivere ok quindi individua anche un sano equilibrio tra sì io sono disponibile ad aiutare gli altri e mi dedico ad aiutare gli altri a fare delle cose per il bene comune della comunità degli individui intorno a me però non è quello che se non faccio quello non ho più niente da fare e quindi diventa ciò che mi fa sentire una persona collocata o mi fa sentire vivo io mi posso sentire vivo anche se mi sto dedicando a me stesso mi sto dedicando a ciò che fa bene a me mi sto dedicando ai miei bisogni e trovo equilibrio in queste due cose questo molto interessante e poi atteggiamento verso la natura questo interessantissimo per noi oggi frecchettoni e se sentono una vicinanza una dedizione alla natura elementare cioè proprio il prato il bosco il ruscello hanno un orientamento ecologico e trovano il loro piacere da un'alleanza con le forze della natura anziché nel dominio della natura questo è anche interessantissimo cioè guardate cosa sta facendo l'uomo sta cercando di dominare la natura sta cercando di controllare il clima ho sentito bill gates dire che vuole oscurare il sole per proteggerci dal buco nello zoro cioè stiamo riempiendo il mondo di cose che devastano la natura e vogliamo anche controllare la natura in tutti i modi anche per prevenire disastri che la natura può fare nel nostro mondo e in realtà se hai questo sintomo che in realtà la natura la vorresti lasciare esprimere e vorresti semplicemente fluire con essa tipo andarti a fare un bel bagno nel fiume quando è il momento quando nei voglia o passare del tempo nei prati nei boschi allora sei gravemente malato poi c'è il fatto che queste persone sono anti istituzionali questi individui hanno un'antipatia per ogni istituzione rigidamente strutturata inflessibile e burocratica credono che le istituzioni dovrebbero esistere per la gente e non il contrario questo è un pensiero molto importante le istituzioni le forze di polizia il parlamento gli ospedali e quindi la sanità l'ordine mondiale della sanità tutte queste cose dovrebbero essere lì per servire la gente e non deve essere la gente che serve a queste istituzioni affinché esistano e possano arricchire le loro casse o il loro potere o il potere di chi lavora in queste istituzioni o chi le comanda e le guida c'è bisogno di dire altro su questo fa anche arrabbiare pensarci l'autorità interiore è un'altra caratteristica perché queste persone hanno fiducia nelle loro esperienze e diffidono profondamente dell'autorità esterna wow pervengono a giudizi morali personali disobbedendo anche apertamente alle leggi che ritengono ingiuste ok quindi questa non è anarchia perché l'idea è che comunque non ti fidi molto di certe cose che ti vengono imposte ok in questo periodo è molto molto facile riflettere su questo e tu magari dici no io disobbedisco consapevolmente apertamente perché ritengo che questa cosa non sia giusta ed è importante che ci siano persone che fanno questo perché molte leggi fatte dagli uomini non sono divine quindi sono ingiuste ci sono tante leggi giuste ce ne sono tante che non sono giuste e che sono fatte in modo da rendere sempre più difficile la vita delle persone quindi alla fine se il mondo è così è normale che ci siano delle persone che cominciano a diffidare dell'autorità che arriva e dice bene ora mettiamo questa nuova regola per il bene di tutti aspetta un attimo io già che dici così mi chiedo di chi farai veramente l'interesse no quindi se vi succede di fare questo ahia la lista di sintomi si sta allungando e poi c'è un disinteresse per le cose materiali che è caratteristico di queste persone questi individui sono fondamentalmente indifferenti agli agi ai vantaggi materiali il denaro i simboli materiali dello stato sociale non rappresentano i loro obiettivi questo è importante da dire cioè il denaro è qualcosa che circola nella nostra vita perché senza quello non fai niente e quindi è normale che tu ti dai da fare per procurartelo ma se quello il denaro ciò che rappresenta lo status che ti offre che ti concede eccetera eccetera sono quelli i tuoi obiettivi allora non hai questo sintomo se invece il denaro ti serve per raggiungere altri obiettivi e quindi ce l'hai e lo usi per degli obiettivi che sono diversi da status ricchezza posizione sociale agio che ti dà tutto questo eccetera allora sei diverso essi possono vivere nella ricchezza ma questa non è in alcun modo necessaria per loro questa è una cosa molto interessante ci sono persone per me è stato ispirantissimo interessante poi la vita di alvaro olivetti mi pare si chiamasse alvaro sono adriano perché proprio il nome non mi entra però olivetti ho visto diventa diversi documentari su di lui quell'uomo che mi ricordo proprio le prime macchine da scrivere elettriche perché sono un po vecchietto al militare io avevo una delle prime macchine da scrivere elettriche ed era wow in caserma ce n'erano due tipo ed eravamo gli addetti a usarla olivetti era un visionario era un uomo ricco perché aveva avuto un boom nel successo come agnelli come amarelli come accadeva in quegli anni in quell'italia era nello splendore economico era terza quarta potenza mondiale economica proprio per quello che stava producendo pensate ducati maserati lamborghini ferrari andiamo avanti con poi al saldo italsidere eccetera eccetera c'era l'ibeco la fiat noi eravamo potentissimi e quest'uomo era tra i più ricchi perché e aveva avuto delle intuizioni che ora non ve la faccio lunga ma se lui non fosse stato fatto fuori in qualche modo invece di mac apple avremo olivetti perché aveva già cominciato a conquistare il territorio americano a prepararsi a sbarcare lì con queste cose innovative che nessun altro aveva nel mondo cioè i primi computer bene quest'uomo non andava sullo yacht passava le domeniche nella fabbrica chiusa a guardare i macchinari a pensare come posso risolvere il problema uomo macchina io non voglio che gli uomini che lavorano nella mia fabbrica subiscano lavoro ma si arricchiscano col lavoro e più diventava ricco più alzava il salario sui dipendenti riducendogli le ore di lavoro e questo è l'esempio di una persona che può diventare molto ricca ma non gliene frega una mazza dei soldi questo questo sarebbe la vera ricchezza in tutti i sensi brama per lo spirituale è un'altra caratteristica che hanno queste persone e quindi che cosa significa queste persone di domani sono ricercatori mi piace tanto questa parola perché mi ci identifico un sacco desiderano trovare un significato uno scopo nella vita che siano più grandi dell'individuo stesso quindi persone che spirituale vuol dire tanto nuovo può voler dire tante cose sono persone che comunque sono alla ricerca perché sono orientate verso la crescita interiore della evoluzione individuale e collettiva e alcune si dirigono verso la religione ma molte stanno esaminando i modi in cui l'umanità è pervenuta ai valori alle forze che si estendono al di là delle cose comuni ok quindi non sono persone che a un certo punto si fermano solo a una religione diventano indottrinati e la prendono come autorità come dogma come unica verità da seguire come fete cieca sono persone che le religioni le studiano le seguono le praticano così come praticano la spiritualità che è diversa dalla religione perché sono alla ricerca anche di un'esperienza che si fonda su quelle cose che magari gli antenati stessi hanno messo a punto e ci hanno passato di generazione in generazione proprio come la meditazione lo yoga le pratiche le scienze spirituali di ogni genere quindi ecco sono ricercatori spirituali e quindi con tutta questa un elenco di non le ho numerate ma sono dodici cose che carl rogers aveva individuato lavorando con le persone cioè lui aiutando le persone a trovare la loro completezza la loro salute interiore mentale prima di tutto ma poi sicuramente globale perché nell'epoca in cui rogers si è dato tanto da fare per cambiare le cose in quel periodo storico era il momento in cui tanti altri personaggi importanti del panorama psicologico stavano considerando che la mente e il corpo non sono separati e quindi se io faccio un lavoro psicologico automaticamente il mio corpo coinvolto perché magari tiene delle tensioni ha bisogno di scaricarle non piange più ha bisogno di ritrovare il modo di piangere e allo stesso tempo il mio spirito è coinvolto perché come io divento più consapevole di me e del mondo intorno a me grazie a un lavoro psicologico più aumenta la mia coscienza la coscienza di sé e la coscienza della vita del mondo del senso della vita quindi lui aiutando le persone si accorse probabilmente immagino perché io quel libro non l'ho letto tutto ho letto altri libri che erano più legati al lavoro che si fa come counselor mi interessavano particolarmente ma sono sicuro che quando avrò un momento andrò a vedermi anche questo più nel dettaglio più nel profondo perché poi io sono uno che a car rogers vado compro quattro libri poi ne leggo due e gli altri faccio foto reading quindi voglio approfondire però sicuramente immagino che lui abbia fatto questo lavoro con le persone per così tanto tempo con i gruppi anche per arrivare poi a vedere che le persone che stavano meglio più velocemente erano proprio quelle che avevano queste caratteristiche una volta risolti i problemi esistenziali problemi psicologici che tutti un po abbiamo nella vita di tutti i giorni o magari problemi psicologici anche più gravi una volta a posto erano persone che riuscivano ad essere centrate su tutte queste caratteristiche e quindi vivevano meglio ed erano comunque a suo avviso pronte per un mondo di domani che è il nostro mondo di oggi e sono sicuro che siete d'accordo anche voi perché io come le ho lette queste cose ho detto wow sembra un profeta perché intorno a me io sempre di più mi connetto con persone così che hanno queste caratteristiche magari non tutte magari anche io stesso potrei dire non le ho ancora tutte ben sviluppate però in realtà molte 90 per cento me le sento già vibrare alcune più marcate altre meno qualcuna in fase di manifestazione primordiale sta venendo a galla però in realtà sono tutte cose in cui mi mi trovo e sono sicuro che molti di voi si sono trovati in questi 12 punti se non in tutti in molti di questi e proprio stamani parlavo con un'amica quando posti l'amico ti scrive ho visto il tuo post wow ma sai che io ho letto quello e siamo arrivati proprio rassicurandoci un po davanti alle notizie di questi giorni a dirci cavolo però è vero più andiamo avanti in questo delirio e più mi rendo conto che incontro e mi connetto alle persone che vibrano alla mia stessa frequenza che la vedono come me che è un certo io lo vedo anche su facebook non so se è un modo per isolarmi che usa l'algoritmo di facebook ma un anno fa quando postavo queste cose ero massacrato dai commenti della gente che diceva sia un terrapiattista sia un complottista cosa crede di poter vivere con l'orto ma non ti rendi conto come il mondo e oggi non è più così sì ci sono ancora persone che magari danno contro un post ma vedo che la situazione è molto diversa probabilmente quelli mi hanno cancellato dalle loro amicizie ma questo mi ha permesso di avere più spazio per dare l'amicizia ad altre persone che vedo che risuonano di più con me mi condividono cose che completano le mie ricerche o magari mi aiutano a vedere che quello che stavo credendo fosse vero non è poi così vero e questo mi aiuta a ridefinire quell'idea che mi stavo facendo sul nostro momento attuale eccetera eccetera quindi questo molto utile ci stiamo connettendo ci stiamo connettendo che lo vogliamo o no sta accadendo se siamo persone che stanno vibrando a una certa frequenza quelli che vibrano come noi cominceranno a essere sempre più connessi a noi e a un certo punto sono sicuro che diventeremo una massa critica e quindi ecco che cosa vengo a dirvi alla fine per la meditazione di stasera che adesso stiamo per fare vogliamo ricordarci che il mondo il suo delirio sono solo un grande lila il gioco cosmico ne avrete sentito parlare lila il gioco cosmico brahman secondo lui yoga il tantra brahman crea l'universo e questo diverso comincia con tutte le sue cose a tutti i suoi mondi tutte le sue popolazioni tutte le sue storie è un gioco è un gioco che brava non fa e noi siamo i giocatori siamo in gioco e a un certo punto ci potrebbe essere un game over potrei morire ma secondo lo yoga il tantra c'è la reincarnazione potrei rinascere oppure potrei non rinascere su questo livello esistenziale ma continuare a vivere su un altro livello insomma credo che più o meno se siamo qui a seguire questa meditazione stasera abbiamo tutti una visione molto aperta su quello che può essere la vita fuori da questo corpo bene è importante ricordarselo io cerco di ricordarmi tutti i giorni ma è inutile che mi preoccupo così tanto perché potrei morire domani per una cosa che non c'entra una mazza con quello che sta succedendo perché magari mi schiaccia l'autobus mentre sto guardando quanti like ha preso il mio ultimo post attraverso la stampa oppure peggio ancora vado con lo skate e mi sfracello e batto la testa è finita lì game over ok quindi io lo metto in conto ci ho fatto un grosso lavoro e lo metto in conto quotidianamente potrei morire domani e cerco di ricordarmelo ogni giorno perché poi alla fine questo ci aiuta e lo insegnavano anche gli sciamani a vivere meglio la vita considerando la morte un'amica che ti ricorda guarda che io sono lì non ti ho ancora preso ma sono lì quindi coditi oggi perché non sai se ci sarà domani e quindi vivere a pieno e questo non vuol dire almeno per me fare il cazzone tutto il giorno perché io mi sento pieno alla fine della giornata se ho fatto le cose in cui credo e questa è una delle cose in cui credo e ho lavorato per prepararla diverse ore per pensarla per organizzare per far sì che tutti siano qui e sono sicuro che ognuno di voi siete tantissimi segnati di yoga arriva a fondo della giornata contento di aver fatto una lezione che sia su zoom che sia nel parco è comunque contento di aver fatto la cosa in cui crede e poi c'è anche un tempo per il cazzeggio perché se non c'è tempo per il cazzeggio allora la vita non ce la stiamo godendo si possono lavorare se riesco a fare un lavoro in cui cazzeggio anche perfetto quindi è un grande lila è un gioco ragazzi stiamo giocando quindi ricordiamoci che i giochi sono qualcosa che è pensato per essere divertente anche il delirio più grosso che stiamo vedendo i container per fare i campi di concentramento i cani anti covid sono un gioco io all'inizio ero angosciato poi dopo un'oretta o due ho cominciato a dire ok devo trovare modo di ridere anche su questo e quando è arrivato ho detto cazzo se mi mettono in un container in fondo io volevo la caverna lì mi danno anche vito all'alloggio ci sarà riscaldamento d'inverno posso sempre mettere spengere il riscaldamento prendere freddo e continuare le mie pratiche quindi cerco di prenderla così ok con allegria poi c'è un altro aspetto beh il gioco divino l'abbiamo detto maya è una grande permettetemi di dirlo la traduzione dal sanschritto è maya è una grande fottutissima illusione stratificata perché abbiamo l'illusione del corpo fisico l'illusione del corpo energetico l'illusione del corpo mentale l'illusione del corpo eterico causale subliminale eccetera eccetera sono tante illusioni viviamo su vari piani illusioni continue quindi non sarà cercando di mettere a posto tutta questa illusione che troveremo la verità ma semmai smettendo di illuderci e quindi qui mi sento di mandare un messaggio è importante anche smettere di illudersi che andrà tutto bene perché questo maya in questo gioco è scritto un po' dappertutto andrà veramente tutto a puttane non c'è verso andrà tutto a puttane e quindi è scritto nell'apocalisse io mi sono studiato in questo periodo sono andato su youtube a cercare qualcuno che fosse ferrato nell'argomento e mi spiegasse che diavolo appunto c'è scritto nell'apocalisse chi è il leone di giudice che cosa succede cosa vuol dire 666 che voglio vedere perché molte di quelle cose che sono scritte lì sono chiaramente altamente simboliche ma comincia a intravedere che dice aspetta un attimo qui ci sono dei segni molto chiari del periodo che stiamo vivendo molto interessante e se non nell'apocalisse ci sono previsioni e profezie fatte da altre culture in altri tempi o nei nostri tempi da pensatori della nostra epoca che già negli anni 80 70 90 avevano previsto la crisi economica una pandemia globale che poi lo sia o meno secondo me non è questa ne arriverà una vera andrà tutto a puttane mettetevelo anzi cominciate a usare l'hashtag da domani andrà tutto a puttane ma io sto delirando bene questo è il fatto ok in questo casino vogliamo essere anche pronti a questo fatto maia davvero maia è una grande illusione anche l'inferno è un'illusione non esiste davvero nel profondo secondo lo yoga noi siamo luce pura luce la cosa che trovi alla fine tutta la diciamo il lavoro di sfogliare tutti questi strati di illusione un po lo sappiamo perché in meditazione a certi livelli ci arriviamo ma gli oggi di tutte le epoche ce lo dicono continuamente quando hai tolto tutti gli strati di questa illusione rimane il fatto di essere amore quella è ciò che nello yoga noi consideriamo la verità per cui tutto questo grande casino gente che si ammala che muore la pandemia le restrizioni la zona rossa la zona rossa è un'illusione assurda è un'illusione assurda io non la vedo sono pure dal tonico quindi non c'è la zona rossa ecco quindi noi vogliamo essere così proprio così immaginate che il mondo sta andando tremendamente a puttane e noi siamo quelli che se la ridono ok e non scherzo perché se devo scegliere proprio recentemente ho parlato molto di emozioni se devo scegliere e posso scegliere quando la padronanza del mio corpo della mia mente grazie alle pratiche dello yoga della meditazione e mi aiuto con uno stile di vita che mi permette di usare il corpo la mente in un certo modo a partire dall'alimentazione alla scelta di cosa faccio ogni giorno e cosa guardo ogni giorno quando ho questi strumenti io posso scegliere se coltivare o meno certi stati emotivi la paura arriva la rabbia arriva ma quando io la vedo arrivare la so accogliere la so comprendere elaborare e gestire sono sempre capace di ritornare a uno stato di calma serenità e tranquillità voglio sempre ritornare lì e quando sono calmo sereno e tranquillo basta un niente per farmi gioire divertire ridere scherzare condividere amare abbracciare la vita e le persone quindi voglio stare in questo stato più possibile quindi ora vi porto attraverso alcuni passaggi stasera nella meditazione che guiderò con voi per cercare di andare a cercare questo stato in relazione a quello che c'è fuori intorno a noi nel mondo ricordandoci che è una grande illusione e questo stato secondo me è sostenuto dal coltivare le 12 cose che abbiamo visto prima apertura di mente il non affidarsi all'autorità in modo cieco tutte quelle cose che abbiamo visto prima essere dei ricercatori eccetera 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 metterò il video che abbiamo appena registrato su youtube così potete andare a rivedere se non avete il tempo di rileggere il libro di rogers ora ci prepariamo a meditare e quindi ci sediamo in una posizione comoda bene adesso seguo una parte pratica di meditazione che però non trovi in questo video ma trovi sul mio sito se hai voglia di fare questa pratica vai a vedere il pacchetto insieme nella luce sono una serie di meditazioni inclusa quella che abbiamo fatto alla fine di questo video dove lavoriamo su tutte cose che ci fanno crescere interiormente meditazioni non proprio ortodosse diciamo che sono pratiche dove usiamo la visualizzazione creativa e le tecniche tipiche della ritrazione della concentrazione per fare dei grossi passi avanti sul nostro cammino quindi abbiamo iniziato a fare da quando è iniziato l'emergenza sanitaria ne abbiamo fatte diverse le abbiamo registrate tutte e le trovi lì e acquistando queste meditazioni aiuterai dei bambini che non stanno bene come noi e che sono in Thailandia segui il link che trovi qua sotto e buona pratica